benvenuti in questo nuovo video un video di una sessione libera scusate sono influenzato vabbè lasciamo stare una sessione registrata il 25 di novembre andremo a vedere questa sessione dove ci sono dove ci sono tanti aspetti molto importanti e fondamentali faccio la sessione libera faccio un paio di domande ma lascio lascio entrare chi voleva dare un messaggio infatti è stato così sono arrivati un paio di ministri insomma poi è arrivato Michele che già avevamo sentito un pezzo di un'entrata spontanea con la sessione di Yolanda dove Michele grande amico mi dice una cosa molto particolare Michele è il fratello di una conoscente abbiamo passato cinque anni di amicizia ma adesso non lo so non è che mi interessa molto insomma ma mi interessa più quello che mi ha detto Michele insomma in questa sessione sentiremo anche una cosa che mi è successa in questa settimana questa settimana che è passata veramente è stata tragica è successo di tutto e di più insomma preso anche il covid grazie alle persone che comunque non si fanno i tamponi dicono che è solo un'influenza ma tu che ne sai se è solo un'influenza fatti un tampone io mercoledì non stavo bene la prima cosa che faccio faccio un tampone e risulta positivo grazie al mio datore di lavoro che ha infettato tutti quanti e va bene allora passiamo a schermintero andiamo a vedere questa sessione molto ma molto interessante spero di sentire perché ho le orecchie che sono andate al malicomio insomma va bene allora partiamo con questa sessione ok proviamo la radio chiedo le mie guide farò una diretta il 9 dicembre per contattare i propri cari nel gruppo il mio nuovo gruppo se avete qualcosa in merito grazie e qua dicono a noi risorse noi abbiamo le risorse per aiutarti tu hai la capacità nel sentire la metafonia e nel cercare comunque di trovare anche nuovi metodi infatti questa sperimentazione che ho fatto in questa sessione è fatta con la radio online ma fare con la radio online dura questa sessione dura quattro minuti ci ho messo mezz'ora perché tra uno stop uno start e stop tra pausa e scatta la pubblicità allora devo trovare un'app che sia valida dove trovare la radio pagare un abbonamento annuale cercare comunque di levarmi dalle scatole sta pubblicità sennò diventa l'impegnativo è un disastro allora c'è qualcuno che vuole mandare un messaggio così libero proprio caro se riesce a dire il suo nome e il suo messaggio grazie qua dice c'è un riccardo ha un viso uguale cioè molto probabilmente secondo me è passato a un'età a una determinata età e quindi ha un riso ha un viso uguale cioè che comunque non è invecchiato anzi si ringiovanisce quando si va nel dal di là che si va nella luce si torna a un viso giovane insomma l'età si dice che l'età è sui 30 35 anni e si rimane così qui io su amo e dice e dice una bellissima frase che qui io su amo qui io su amo qui io su amo quindi riccardo sta bene a riccardo nella luce dice che ha il viso uguale e e dice che ama e quindi qui si ipotizza che lui è nella luce sta bene ed è sereno e tranquillo ho sentito suo amo e qua entra imma 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 è la madonna sempre vergine santissima io la chiamo imma e lei ovviamente quando viene dice imma sono imma cioè perché perché io sono nato all'immacolata io lo chiamo imma è il mio giorno cioè è il suo giorno più che più che altro è il suo giorno che il mio giorno insomma qua dice ovvio non vedo Luca dice ovvio non vedo Luca in questo momento il mio spirito guida che è Luca non c'è sicuramente sarà stato indaffarato e qua dicono che non vedono il mio spirito guida Luca insomma si preoccupano un attimino e qui aspetta ecco non riesco ad avere i tempi sono abbastanza rimbambito ecco c'è Siro però Siro è San Siro e dice Siro ti spiega ami Siro mi porta sulla retta via mi spiega che devo amare anche se sono successe cose e e mi dice ama lo stesso non ti preoccupare e via insomma e dice una cosa molto particolare perché mi fa questa questa frase e mi dice una cosa crisi crisi sono stati in crisi ultimamente e quindi mi dice non ti preoccupare ama e anche se sei in crisi e qua dice lo è anche da noi c'è una crisi anche da loro è possibile che la mia crisi abbia destabilizzato le mie guide e chi mi segue non lo so ma penso di no forse c'è una crisi dalle sue dalle loro parti per altri aspetti insomma ci sono varie guerre in ballo ci sono tante cose in ballo insomma io spero che comunque sia una crisi passeggera per questi eventi ecco non il mio evento io non conto niente ecco alla fine qua dicono su le rose sopra ci sono le rose e qua un bellissimo messaggio anche abbastanza lungo dice siro saluta è arrivato luca arriva cristo e siamo insieme e qua mi dicono una cosa molto importante dicono pignorare versano un nodo a te praticamente qualcuno umano ha cercato di farmi un nodo il nodo che cos'è il nodo pensieri negativi malvagità eccetera parole pesanti praticamente mi hanno sciolto un nodo se chi è religioso sa benissimo chi è la madonnina che scioglie i nodi molti fedeli si pregano questa madonnina per scioglie i nodi e in questo momento siro mi dice che con luca arriva cristo e mi tolgono un nodo fatto da persone umane insomma qua dice cortese siamo prove sì 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 ci siamo noi praticamente noi siamo sempre anime cortesi siamo buoni e ti diamo sempre le prove e sì siamo sempre noi qui arriva anche mio zio e mi dice che protegge zio protegge mio zio è passato oltre due anni fa il 7 di dicembre manca manca qualche giorno insomma l'avevo mandato avevo mandato nella luce insieme alla mia amica e insomma come ringraziamento mi dice che mi protegge e i fiocchi sei tu cioè qua sta a significare tipo il fiocco di neve che sono puro e mi dice un bellissimo messaggio che sono un fiocco di neve che è puro e qua il ministro fa viole ministro trovano e fanno viole cioè le viola la viola è un fiore bellissimo e mi danno o diciamo un fiore ecco insomma e qua dicono attenzione amore per le vecchie cioè potevano dire qualcos'altro però vecchie mi sembra un po' comunque questo che ci vogliono far capire rispettiamo sempre le persone anziane loro hanno hanno alle spalle hanno una vita lunga hanno esperienza hanno intelligenza hanno cultura e bisogna rispettare sempre le persone anziane e qua dicono qui si vive olio si cioè qui si vive e la nostra vita scorre via come l'olio molto scivolosa molto tranquilla molto serena e qua dice che c'ha un cuore al sole il sole è dio e papà dio qua dice cristiano vive turismo e dice che il cielo è lì cristiano molto bravamente lavorava col turismo e anche di là fa penso io un lavoro abbastanza simile vive di turismo anche di lì molto probabilmente forse accoglie qualche anima e la porta in alto e poi dice fausto fausto c'ha rose fausto porta delle rose penso per un un suo caro poi dice noi fabrizio c'è anche agnese cioè con loro c'è questo fabrizio e c'è anche un agnese le donne in rosso guardalo indietro allora qua il rosso sta a significare che comunque le persone che fanno e hanno atteggiamenti brutti dovrebbero guardarsi indietro dovrebbero guardarsi alle spalle dovrebbero guardare che cosa hanno incombinato nella vita qua c'è qualcuno che dice è il nostro turno ci fate parlare o no anch'io voglio lasciare un messaggio e gli rispondono ma arriva stai tranquillo stai sereno tranquillo che adesso finiamo il nostro discorso e poi se vuoi mandato un messaggio visto che comunque una sessione libera ti mandiamo ti facciamo fare il messaggio qua deve cercare rose perché vuole mandare altre rose a questa a noi diciamo che sarebbe una persona però magari vuole mandarla a tutti noi e qua e qua arrivano un pezzo veramente questa sessione l'ho registrato il 25 di novembre e mi dice Pietro ufo fa mantecarlo qui qui è sconvolgente come come messaggio perché come io dico delle volte la metafonia non ci arriva subito non capiamo subito che cosa che cosa ci stanno dicendo ma possiamo capirla anche più avanti infatti è stato così io l'ho capito lunedì notte andando al martedì e qui è Pietro e San Pietro che mi avverte che c'è un ufo in giro dalle mie parti e dice che ruota questo ufo qua dice domenico cresce solo qua domenico che cresce da solo si vede che è un'anima in difficoltà però Pietro mi dice oh fai attenzione che qui c'è un 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 ufo protetto zero siro cerca orca siro cerca di fermarlo questo ufo è un animale dice ma Adamo regge queste cose che gli state dicendo e mi dicono Adamo le quattro è Adamo le quattro alle quattro è successo lunedì andando a martedì notte che praticamente io faccio un sogno strano faccio faccio due sogni strani un sogno strano brutto ho capito che era brutto e un secondo ero qua nella mia sala però era una riproduzione della mia sala non era proprio la mia sala il tempo non scorreva né avanti né indietro era in una fase di stallo allora chiedo alla mia amica se poteva dare un controllo di questa cosa qui e appena guarda mi guarda chi c'è vicino a me c'è praticamente un alieno un alieno di nome Mark se non sbaglio perché questa qua è sì Mark che praticamente arriva da non vi leggerò tutta la la canalizzazione arriva dalla cintura di Orione e praticamente mi dice che sono stato attaccato da altri alieni provenienti da Marte e poi mi dice delle cose molto particolari che io sapevo già ma ho una conferma e insomma un attimo e insomma qui mi dice determinate cose insomma che sono un seme stellare uno strand e cose che interessano a me ma io comunque sapevo già e niente anche qua ringrazio la mia amica per avermi salvato lì ma soprattutto Mark di avermi aiutato impedendomi che alcuni alieni mi facessero il mazzo andiamo avanti dai sessismo qua non so come mai dice sessismo forse perché ce l'avevano con gli alieni cioè con esseri bidimensionali che erano maschi o femmini non so bene comunque e qua mi dicono ci sono i rocchetti lì perché io lavoro nel tessile io mi lamento sempre che il mio principale uno dei miei tre principali lascia sempre le scatole che erano rocchetti in giro per il laboratorio e qui mi fanno capire che comunque sono con me anche mentre lavoro che ci sono rocchetti lì ok proviamo dai c'è qualcuno che vuole dire il suo nome e messaggio qui dice non riesce c'è anche mio nonno in questa sessione in tratte spontanee come vedete c'è mio zio c'è mio nonno e insomma ci sono tutte le anime belle della mia vita che vengono in questa sessione e cercano di farmi capire che comunque loro ci sono e sono con me vabbè dai chiudiamo questa questa sessione vi lascio ancora qualche secondo se volete dire qualcosa a noi e se era possibile guidarmi aiutarmi nella diretta che farò il 9 di dicembre grazie guide e qua dice chiedo se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa e dicono sì e dicono Gesù è qua che c'è da dire di più e io l'ho sentito io ho sorpreso che sento Gesù io dico caspita Gesù è qua e loro dicono è ovvio cioè è abbastanza incredibile questa cosa io non mi stupisco sempre e dicono è tra noi la classe la classe cioè qua dicono che Gesù è con me Gesù è qui e mi dicono è ovvio è tra noi e la è classe cioè c'è tanta classe in Gesù insomma è Gesù non è che è picco pallino e qua ci fa capire tanta roba insomma è cioè mi pare di aver sentito Gesù è qua un bacio e un abbraccio Gesù e anche a voi ministri e guide ho sempre molta stima nei loro riguardi ecco insomma cioè dovremmo averla tutti questa stima anche se noi combiniamo le nostre marachelle però loro ci vogliono bene lo stesso insomma ecco vi voglio bene e niente dai altri 30 secondi e poi chiudo la sessione e vi ringrazio e qua dicono che c'è Luca dietro a lui e protegge qui sta a significare che quando io chiamo i vostri cari c'è il mio spirito guida che in questo caso è Luca Luca è veramente uno spirito guida importante e potente perché quando vengono i vostri cari come possiamo sentire in questo scorcio di messaggio loro sono sereni sono tranquilli perché dicono che Luca li protegge e veglia su di noi cioè qui è la dimostrazione che quando io chiamo i vostri cari e vengono qui sono protodetti sono al sicuro e Luca veglia su di loro cioè praticamente sono in una botte de ferro come si dice a Roma qua Anarima dice ciao qua mi sono incartato stupendo anche io faccio del mio adesso che è scattata la pubblicità possiamo concludere se avete qualcosa da dire grazie e poi vi mando un abbraccio un bacio a tutti voi e qui c'è un attimo qui c'è un'interazione incredibile perché cerca di dire a Maurizio ma non riesce a dire Maurizio dice Mauri scherma e poi ripete e dice Maurizio Maurizio e qua Maurizio Maurizio scherma aiuta protegge anche lui non so chi sia ma sono sempre benvenuti ecco insomma quando vogliono proteggere sono sempre benvenuti anzi più protezione c'è meglio è Greta Greta so chi è Greta Greta è diciamo una possiamo dire segretaria di un ministro un ministro che si chiama Pietro San Pietro che è stato fino ai primi inizi dei miei passi di metafonia di otto anni fa Greta anche lei veniva insieme a Pietro e Greta è venuta anche in questa sezione in sessione e adesso arriva un'entrata spontanea di un amico e mi dice una cosa molto particolare manchi alla casa questo ve lo spiego molto semplicemente non mando più messaggi audio ad una determinata persona perché adesso dice il nome Michele Tibacia Michele Tibacia Michele Tibacia Michele Tibacia allora Michele è il fratello di una conoscente non mando più messaggi audio a questa persona questa persona non gli ascolta più allora Michele si sta lamentando del fatto che manco alla casa gli manco dove dove lui adesso sta spesso sta a casa insieme vicino alla sorella per aiutarla a proteggerla eccetera eccetera vabbè comunque ma insomma non ce la può fare perché si è si è un po' ingarbugliata su se stessa e su determinate persone ma ognuno fa le sue scelte insomma ecco e Michele dice che gli manco e allora che cosa ha fatto che cosa ha scelto ha visto che stavo facendo metafonia è venuto e mi dice questo bellissimo messaggio che Michele ti bacia e sono onorato che Michele mi bacia ed è venuto a fare a fare un saluto ma magari gli faccio una promessa che mi farò ancora ascoltare a casa vedremo chissà Michele ti bacia ho sentito Michele ti bacia è qua l'ho sentito in diretta Michele ti bacia e so chi era Michele subito ho capito chi era Michele qua qua alla fine metto le chioccioline perché io sento ti stimo ma poi non è proprio ti stimo perché ascoltiamo bene poi spiego anche questa cosa qua dice silenzio tu vai originario tu praticamente io non ho detto tantissime cose sono stato in silenzio mi sono preso un sacco di insulti eccetera eccetera beh comunque mi faccio scivolare le cose perché le persone sono quelle che sono gli sbagli vengono fatti non ho fatto troppo casino non sono andato a lamentarmi o a fare chissà che cosa e vabbè io sono stato in silenzio tu vai originario io sono così io sono una persona molto silenziosa non va a rimarcare determinate cose e sono stato zitto e insomma ti stimo sei così grazie beh anche se io lo stimo lo stesso Michele insomma Michele come un'anima così pura la sorella non l'ha capito una mazza vabbè comunque e Michele dice una cosa odio pervade da determinate persone questo odio pervade e chissà come mai boh non lo so e sinceramente non mi interessa perché comunque Michele mi dice una cosa molto importante qua dice dato uccello noi la sorella quando era scomparso Michele vedeva spesso un uccellino questa è la dimostrazione del fatto che io so la sorella lo sa ma molti non lo sanno che quando vediamo una farfalla un uccello che si avvicina a noi è un'anima di un nostro caro che può tra virgolette prendere possesso e energie su questo determinato animale che è un uccello che è un pettiroso un uccello normale o una farfalla che si avvicina magari se vedete alcune persone che comunque stendono il braccio e hanno perso un proprio caro questa farfalla arriva e si posa sul dito questa è la dimostrazione del fatto che è il nostro caro che ci sta mandando un segnale questo è un segno non il segno di cuori e cose di questo genere che non arriva dai nostri cari questo è un segno come i sogni sono segni e via e qua hanno cercato sicuramente hanno mandato un uccello Michele hanno mandato un uccello alla sorella per fargli capire una determinata cosa ma non penso che la sorella capisca che cosa gli sta dicendo sicuramente capisce la vicinanza del suo fratellino ma non capisce che cosa gli sta dicendo e pazienza perché Michele dice una cosa molto importante poi pagano gli sbagli nella vita si pagano e quando si va nell'aldilà Michele sta dicendo una cosa molto particolare tutto l'odio che è stato riversato nei miei confronti le parole brutte che sono state riversate nei miei confronti eccetera eccetera Michele lo sta dicendo anche la sorella attenzione che quando andate di là poi dopo qua si paga e noi indaga sai cioè qua mi dice guarda che noi stiamo registrando tutto alla fine non è che ci facciamo sfuggire qualcosa e qui è molto bella come interazione perché dice che noi vediamo tutto il mondo spirituale vede tutto ha visto tutto si è segnato tutto e poi come dice poi paga un'anima dice che qui piove questa anima dice che è in difficoltà perché è in un paesaggio brutto e sta dicendo guardate che qui piove grazie grazie e poi entra un'anima che dice disturbo era già capitato un'altra volta che un'anima venisse in metafonia e con molta educazione entra dentro e dice disturbo grazie grazie chiudo vi mando un bacio un abbraccio dicendovi che vi voglio tanto bene e niente qui finisce finisce la sessione torniamo al mio faccione insomma anche questa è una sessione molto particolare di entrate spontanea arriva Michele ci dice mi dice e ci dice e ci fa capire che comunque gli sbagli l'odio eccetera eccetera che noi emettiamo purtroppo dovremo pagare e niente non sono stato molto esaustivo in questa sessione perché veramente non ce la faccio dovevo uscire per forza con questo video prima della diretta di sabato 9 dicembre alle 2 e mezzo su metafonia e contatti al prossimo video ok proviamo la radio chiedo le mie guide farò una diretta il 9 dicembre per contattare i propri cari nel gruppo nel mio nuovo gruppo se avete qualcosa in merito grazie allora c'è qualcuno che vuole mandare un messaggio così libero al proprio caro se riesce a dire il suo nome e il suo messaggio grazie ho sentito suo amo proviamo un'altra radio ho sentito proviamo dai c'è qualcuno che vuole dire il suo nome il suo nome e messaggio nome vabbè dai chiudiamo questa questa sessione vi lascio ancora qualche secondo se volete dire qualcosa a noi e se era possibile guidarmi aiutarmi nella diretta che farò il 9 di dicembre grazie guide mi pare di aver sentito Gesù è qua un bacio un abbraccio Gesù e anche a Ima a voi ministri e guide vi voglio bene e niente dai altri 30 secondi e poi chiudo la sessione vi ringrazio adesso che è scattata la pubblicità possiamo concludere se avete qualcosa da dire grazie e poi vi mando un abbraccio un bacio a tutti voi Michele ti bacia ho sentito Michele ti bacia ti stimo sei così grazie ti voglio bene va bene grazie 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 chiudo vi mando un bacio un abbraccio dicendovi che vi voglio tanto bene